pronto mamma mamma e mi son perso chiama chi l'ha visto chiama che grullo? o come ti ha fatto? no mi son perso il mio bosco e non so dove andare ma chi l'ha visto non sa mai più allora se chi l'ha visto non va più chiamala Barbara d'Urso lei ci ricampa su queste disgrazie o come ti ha fatto? che ti sei fatto? magari poi vado in un burrone e si aumentano gli ascolti poi ci intervistano via però fa presto vai 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 oh c'è qualcuno buonasera io vorrei chiedere una domanda c'è mica uno spinnello? no no io sta a fare no no non c'è niente lei non bella è vista lei ma che fa casca? non c'è niente da fumare no io non c'ho nulla no no non c'ho nulla non c'è niente da fumare 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 ragazzi allora ti sei perso nel bosco? si mi sono perso sei solo? si sono solo ma allora vieni a casa mia ti do una mano vieni con me a casa mia si fa delle merende si e te te tu me lo lecchi eeeh quello anche te tu sei il mostro io devo un culo allora vieni appunto io voglio andare via voglio andare via? e te tu vai dalla sorella su zia? vieni con me o ti dico vieni con me o perché e che ci fai? e che ci fai? e cerco una via d'uscita ma quale via d'uscita? venghi venghi ma allora che fai? vengo? ma venghi ma di certo vuoi avanti io se mi viene indietro te? eh? vuoi avanti io se mi viene indietro te? se lo vieni da due dosi? vai lo vieni da chinarti no aiuto aiuto tre IG Grazie a tutti